Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Uomini e donne, quattro nuovi volti all'interno del programma, tutte le anticipazioni di settembre E finalmente si ritorna a parlare del tanto amato e atteso programma televisivo Uomini e donne condotto ormai da anni dalla bravissima Maria De Filippi Il programma in tutto questi anni ha sempre riscontrato un enorme successo televisivo grazie anche alla professionalità del cast di Uomini e donne È ormai uno dei programmi più resistenti della televisione italiana in onda ormai da più di vent'anni grazie ai colpi di scena e alle novità che ogni anno differenziano il programma televisivo della bravissima Maria De Filippi A rendere il programma più divertente e affascinante ovviamente è la presenza di due immancabili figure fondamentali Parliamo infatti di Tina Cipollari e Gianni Sperti che ormai da anni sono quelli che vengono definiti gli opinionisti del programma televisivo Alcuni addirittura ritengono che senza la loro presenza probabilmente il programma non sarebbe lo stesso Ma finalmente dopo tanto attendere, arrivano le prime indiscrezioni e anticipazioni del programma che andrà di nuovo in onda a settembre LL Dating Show infatti ritornerà con tantissime novità e protagonisti sia per quanto riguarda il trovo over che per quello classico Uomini e donne 4 nuovi volti sul trono classico.In particolare l'attesa è altissima per i nuovi protagonisti del trono classico, che secondo le indiscrezioni saranno 4 nuovi volti mai vista prima d'ora Probabilmente la strategia della conduttrice sarebbe proprio quello di inserire persone comuni mai viste prima d'ora anche per attirare ancora di più l'attenzione del pubblico a casa Secondo quanto rivelato da Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina di Instagram Omini e donne classico e over, ci saranno tante novità e personaggi mai visti nel mondo della televisione italiana È possibile che a settembre i tronisti saranno tutti e quattro volti sconosciuti e che nel corso dell'edizione ne arrivi uno, un, già conosciuto, a, ex corteggiatore o corteggiatrice Il trono quindi avrà inizio con questi quattro personaggi, ma dei nomi non si ha ancora nessuna notizia, ma sicuramente le prime registrazioni partiranno proprio tra il 24 e il 25 agosto Ovviamente a seguire ci saranno novità anche per quanto riguarda il trono over, riconfermati però i volti già noti del programma Insomma non ci resta che aspettare l'inizio delle registrazioni per conoscere questi quattro volti nuovi della televisione e attendere l'inizio di una nuova edizione di Uomini e donne, come sempre ricca di emozioni e colpi di scena Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video